Abbiamo nominato la dottoressa Belfatto come referenza dell'ASL 2 Abruzzo per fare l'interfaccia dedicata al mondo della scuola. Pensiamo che anche il mondo della scuola è talmente grande e importante che ha bisogno di una interfaccia anche personalizzata. Chiaramente noi dobbiamo abituarci a convivere con il SARS-CoV-2 barra Covid-19 perché finché non avremo un vaccino o appunto diciamo scompaia che è molto meno probabile da solo come è avvenuto diciamo che ci ha investito questa pandemia chiaramente noi dobbiamo vivere. E in questo senso uno degli obiettivi di questa azienda è appunto di garantire che le attività proseguono come previsto. Per cui il nostro compito come ASL insieme con il mondo scuola ma e questo è un altro tema la scuola finisce alla campanella ma in verità diciamo la vera prevenzione su questo tema sta dopo la campanella cioè nella vita privata. Il mondo dell'infezione viaggia spesso in ambienti che non sono neanche quelle di strada ma sono proprio gli ambienti dove la gente come si vuol dire si conosce e pensando che questo virus tocca altri si avvicina in modo diciamo inopportuno tra baci e abbracci. E questo chiaramente è il pericolo vero cioè adesso che io non c'è la scuola chiaramente ci vogliono pochi giorni che c'è il primo compleanno di all'allievo facciamo la festa di compleanno. E questi sono diciamo i veri temi su cui noi dobbiamo lavorare perché la festa di compleanno è come la festa che abbiamo visto in altre occasioni sia nell'Aquilano che nella nostra provincia perché specialmente nell'area rurali è successo dove c'è il senso della comunità siamo noi. E in qualche modo basta uno e abbiamo 7, 8, 10, 12 infetti. E chiaramente a quel punto saranno gli infetti della stessa classe perché la festa di compleanno si fa con gli allievi con cui vai prima a scuola. Allora questo è il vero tema che abbiamo nella sensibilizzazione per cui va benissimo la misurazione della temperatura a casa, diciamo tutte le misure mascherine sul pulmino e a scuola, lavarsi le mani, disinfezione, sanificazione delle ambienti e così via. Però stiamo parlando di poche ore della vita del mondo scolastico. Chiaramente la festicciola diciamo va la più per i piccoli governati come si vuol dire da genitori, gli adolescenti sono tutto un'altra problematica ancora. L'altra sera diciamo rientravo a casa c'erano 20-30 ragazzi in una piazzetta. E' normale, però chiaramente anche loro baci e abbracci che diciamo fa parte della vita, sono adolescenti, però chiaramente diciamo questi sono elementi di forte rischio. E avremo quando in questi raggruppamenti di giovani, dalla partita di calcio, dal calcetto, appunto alla birra alla sera, diciamo alla pizza, diciamo un rischio che tutti quanti si infettano. E l'aggravante qual è? Che tendenzialmente sono tutti asintomatici. Per cui non ci accorgiamo, finché come in alcuni casi che abbiamo avuto, si manifesta l'effetto del covid in un adulto, per non dire in un anziano. Allora questo è il vero tema dell'apertura delle scuole. Il dopo scuola. Però, voglio dare anche questo dato rassicurante, nel senso la diffusione del virus nella provincia di Chieti è basso. Siamo stati bravissimi, devo fare complimenti al Dipartimento di Prevenzione, e diciamo sicuramente la dottoressa farà lo stesso adesso per la scuola, che siamo riusciti a spegnere i fuochi appena sono accesi. E con questo, chiaramente, non possiamo negare un aumento della viralità. Nel senso, a giugno noi avevamo 3,7 infezioni mensili per 100.000 abitanti. A luglio 6.5, ad agosto 19.6, questo mese, perché mancano pochi giorni, siamo 24.3. Nel senso, non si può negare, ma questo era anche scontato, che con l'apertura dell'attività produttiva, un'estate che non si poteva negare a nessuno, e adesso l'apertura delle scuole, le infezioni saliranno. E questo rientra nel mio messaggio, dobbiamo convivere con i virus, in sicurezza, con attenzione. Però il tasso di 24.3 per 100.000 abitanti di questa provincia è bassissimo. Nel senso, già l'Italia è un buon tasso. Quello dell'Abruzzo è buono nel panorama italiano, e quello di Chieti è molto buono anche nel panorama abruzzese. Perché vi do anche i dati grezzi degli altri. Allora, Pescara sta al 39.9, chiaramente sono dati grezzi, ma giusto per dire loro di grandezza. L'Aquila, con tutto quello che è successo, al 61.4, e Teramo, come noi, al 24.7. Allora, noi siamo, diciamo, un terzo dell'Aquila, ma non è che all'Aquila, diciamo, chiudono le scuole. Come non chiudono le scuole a Milano o a Roma, dove abbiamo delle incidenze di nuova infezione, ben oltre quello che stiamo vivendo noi. Per cui, l'obiettivo nostro è tenere questo dato buono con l'apertura della scuola. Nell'obiettivo di tutti, tutti, i piccoli, gli adolescenti, le famiglie, gli insegnanti e il bidello, deve essere di tenere basso questo numero. Perché se questo numero rimane basso, noi non chiudiamo niente. Né le attività produttive, né i ristoranti, né il cinema, né le palestre, né la scuola. Allora, e questo è il compito della collega. Fare, come avevo fatto con Massaro e Tozzi e gli altri, un'enorme attività sull'attività produttiva, perché noi stiamo facendo tantissime sorveglianze, specialmente nell'ambiente ad alto rischio, trasformazione carne, latte, nel senso, nella catena di alimenti dove c'è umidità, temperature basse, anche l'attività fisica, perché macellando, chiaramente, uno fatica, per cui, diciamo, un respiro più forte. Diciamo, questo obiettivo ci poniamo anche per la scuola, perché è troppo facile chiudere, ed è una grande responsabilità, uno si assume quando non chiude. In questo senso, rendiamo contagiosa la salute e ognuno faccia la sua parte. La possibilità di avere dei casi all'interno della scuola la dobbiamo mettere come una possibilità concreta. E quindi è lì che bisogna essere in grado di intervenire, come diceva il direttore, in maniera tempestiva, accurata, e fare in modo che tutto funzioni, al fine di limitare anche quelli che sono le eventuali misure restrittive nei confronti di una sezione, due sezioni, piuttosto che di tutta la scuola. Allora, noi abbiamo detto che siamo a 24,3 per 100.000 abitanti di positivi. Allora, se questo dato raddoppiasse, che vuol dire, diciamo, andare molto avanti nel mondo della viralità in provincia, praticamente nella tabella, pagina 4, voi vedete se i grandi istituti, cioè quelli di secondo grado, i licei, uno su due, nei prossimi tre mesi, avrà un caso. Per cui non ci dobbiamo anche qui di spaventare, questa è statistica. Per cui i casi ci saranno. Li abbiamo già previsti. E questa è l'altra indicazione che farei. L'altra è un altro numero che vi do. In questo momento, oggi, stamattina, in tutta la provincia, quasi 400.000 abitanti, ci sono 5 migliorini positivi. 5 e 53 in quarantena. Cioè, diciamo, sono numeri veramente piccoli, su cui io non mi spavento come responsabile della sanità pubblica di una provincia. E non mi spaventa che raddoppiano o triplicano, perché sono sempre numeri piccoli. E ripeto, diciamo, il nostro obiettivo è trovarli. E questo che, diciamo, è il nostro compito più difficile, e che sono tenesemente asintomatici. E questo è il motivo perché ho messo il drive-in. Perché il drive-in tu puoi andare quando ancora non sei messo in quarantena da uno di questi due. Perché sei un sospetto. O, diciamo, hai paura, mettiamolo così. E allora, diciamo, il drive-in da oggi è prorogato fino al 30 di ottobre, con gli orari 8.14 ad attessa e 8.16 a ottona.